E' anche di più un bambino, cioè le prime frequentazioni della parrocchia, dei gruppi di formazione della Chiesa Cattolica, della mia città, dove insieme leggevamo e discutevamo il Vangelo, il Vangelo di Gesù Cristo. E il messaggio profondo del Vangelo, sì, il ricordo è la figura del mio nonno materno, che io naturalmente non ho conosciuto, è una figura molto importante nella mia vita. Mio nonno materno, Gracco Spaziani, era un socialista, ma il socialismo di ispirazione torstoiana, un socialismo antimilitarista, potremmo dire oggi un socialismo non violento. Sì, Aldo Capitini è stato il fondatore del movimento non violento. È stato il primo in Italia che ha introdotto i testi e l'idea della non violenza. Questo lo fece già durante il periodo fascista. La sua fu una resistenza antifascista di tipo non violento, proprio attorno all'idea e al pensiero di Gandhi. Ma l'innovazione di Aldo Capitini per l'Italia è di aver saputo trasportare le idee non violente gandiane nell'attualità, nell'epoca, è cresciuto proprio attorno all'idea dell'obiezione di coscienza. Ci siamo posti questo problema perché in quel periodo, a 18 anni, in Italia si riceveva una cartolina, si chiamava cartolina precetto, che era la chiamata alle armi, al servizio militare. Noi, proprio sulla riflessione della non violenza evangelica, quello che dicevamo nelle domande precedenti, avevamo deciso di praticare l'obiezione di coscienza, cioè il rifiuto del servizio militare. Eravamo anche pronti eventualmente a affrontare il carcere perché non c'era ancora la legge dell'obiezione di coscienza che poi finalmente è arrivata in Italia nel 1972. Da allora in poi il movimento degli obiettori di coscienza in Italia è cresciuto molto, si è collegato al movimento degli obiettori di coscienza negli altri paesi dell'Europa. Sì, è per me un grande onore essere oggi il presidente nazionale del movimento non violento, un'associazione per noi molto importante che prosegue la storia di Aldo Capitini e di Pietro Pinna, primo obiettore di coscienza in Italia. Il ruolo principale del movimento non violento io penso sia quello di un lavoro nel profondo sulla sulla diffusione della cultura della non violenza, ancora troppo poco conosciuta. Quindi questo è il nostro compito principale, mantenere fede e precisione nell'idea della non violenza come rifiuto della guerra e di tutte le fonti, le origini della violenza e la preparazione di una alternativa alla guerra, quindi la via della pace. E oggi il movimento non violento è impegnato in una campagna nazionale che si chiama Per la difesa civile non armata e non violenta, che ha un obiettivo preciso, creare una istituzione statale, un dipartimento per la regia, l'organizzazione nel nostro paese in Italia della difesa civile come alternativa alla difesa armata. Quindi chiediamo lo spostamento di risorse, di fondi, dal bilancio della difesa armata, togliere dei fondi e investirli nello sviluppo e nell'organizzazione di una difesa civile non armata nel nostro paese. E quindi i giovani devono guardare l'aspetto positivo. Siamo riusciti a superare momenti molto difficili e oggi gran parte dell'umanità possiamo dire che guarda diciamo al futuro, alla ricerca di una via di pace. L'altro consiglio che voglio dare ai giovani è quello di approfondire bene le idee e la teoria e il pensiero della non violenza. È molto importante leggere, studiare e discutere insieme. I testi che i grandi maestri e le maestre ci hanno lasciato. Quindi una seria riflessione sulla non violenza e sui problemi che essa pone è l'elemento importante e decisivo per poi poter finalmente passare alla azione, alle campagne, alle iniziative, a essere attori di movimenti che si muovono nella storia dell'umanità e fanno crescere la non violenza.